L'ultima scossa questa notte di 2.3 nella zona vesuviana. Continua il fenomeno del bradesismo e anche in maniera preoccupante, tanto da spingere i sindaci dei comuni dell'area flegrea a chiedere un vertice con Nello Musumeci, ministro per la protezione civile. Ieri il faccia a faccia tra i sindaci di Napoli e dei campi flegrei e il ministro per affrontare il fenomeno del bradesismo ripreso con forza nella zona del super vulcano negli ultimi mesi con terremoti e sciami sismici. L'incontro, sollecitato dai primi cittadini del napoletano dopo la scossa di magnitudo 3.8 dello scorso 7 settembre, la più forte degli ultimi 40 anni, si è tenuto a Palazzo Chigi e ha delineato le linee guida dell'intervento del governo. Dal vertice è emerso un piano in quattro punti. Un piano di analisi della vulnerabilità del territorio, finanziato dalla protezione civile nazionale. Un piano della comunicazione alla popolazione che preveda anche il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie dei comuni flegrei. L'aggiornamento del piano di emergenza e delle vie di fuga, anche con apposite esercitazioni periodiche. Una verifica della rete infrastrutturale al fine di finanziare i lavori di manutenzione straordinaria. La realizzazione in tempi stretti di un piano di analisi delle vulnerabilità del territorio, il primo punto all'ordine del giorno, sarà redatto da Comune e Regione Campania con fondi messi a disposizione dal governo. Servirà a comprendere meglio quali potrebbero essere le ricadute del bradisismo sul patrimonio immobiliare flegreo, in particolare nel Comune di Pozzuoli.